70 d.C., perché da allora è cominciata la diaspora ebraica, sono cominciati i problemi con queste popolazioni profughe o emigrate, ma non è tanto la simpatia o l'antipatia nei confronti di questo popolo quanto il fatto che la questione palestinese, oggi come oggi, crea un punto critico molto importante nelle relazioni mondiali e tra l'altro Israele è un paese mediterraneo, quindi è una cosa non soltanto che tocca l'intensità e la qualità delle relazioni internazionali esistenti, ma è una cosa che ci tocca da vicino, perché ipotizziamo una guerra nucleare fra l'Iran e Israele, l'Iran sgancia una bomba su Israele e gli effetti li abbiamo immediatamente noi, la radiazione ci coglie direttamente, se voi pensate al disastro di Chernobyl, il disastro di Chernobyl si è riverberato sulle agricolture meridionali italiane e non soltanto. Quindi la questione palestinese è direi anche una questione italiana, è una questione di politica estera, però bisogna capirla e per capirla dobbiamo tornare un po' indietro. Dicevo l'altro giorno che la Palestina è stata abitata per 600 anni dagli ebrei, per 700 anni è stata dominata dai romani, poi sono sopravvenuti i bizantini, poi le popolazioni arabe e poi c'è stata la dominazione ottomana, con un breve intervallo cristiano di quasi un secolo con le crociate. Allora voi capite che Gerusalemme è un cocktail di popolazioni, di etnie, di tradizioni culturali, di gente, perché a Gerusalemme sono nate in fondo le tre grandi ed uniche religioni monoteiste del mondo. La religione cristiana, la religione ebraica, a maggior ragione, e la religione araba. Questo fa sì che Gerusalemme sia una città sacra sotto tre aspetti. È sacra per i cristiani, perché c'è stata la crocefissione di Cristo, è sacra per gli ebrei, il Tempio di Salomone, ed è sacra per gli cristiani islamici con la moschea di El Aqsa. Quindi questo insieme di credenze, questo cumulo di storia che si è concentrato in questa città, in questa terra, ne fanno ovviamente un calderone che è ribolle. Nel 70 d.C. Gerusalemme fu distrutta dai Romani. Gli ebrei si erano ribellati più volte ai Romani e alla fine Tito decise di porre fine a questa questione e l'esercito di Tito scese in Palestina e dopo una serie di lunghe battaglie e sanguinose battaglie riuscirono ad occupare Gerusalemme. I resistenti ebrei si ritirarono in una rocca sul Mar Morto, in una delle poche, diciamo, montagnette che ci sono sul Mar Morto, in un luogo che si chiama Masada, praticamente inespugnabile, perché si erge ritto con le pareti quasi scoscese sul mare, morto, e l'idea esistette da lungo. Poi un generale romano decise di chiudere la partita e fece costruire delle torri d'assedio alte quanto questa collina o questa montagna, alte quanto la fortezza di Masada. si avvicinarono, i Romani entrarono, ci fu la battaglia e gli ebrei furono tutti massacrati, o meglio, nessuno di loro si arrese. Era forse, diciamo noi oggi con il senno di poi ed intuendolo, ma non lo sappiamo esattamente, la comunità degli Esseni che si difendeva lì a Masada, con le famiglie, con i figli. Quelli che sopravvissero si suicidarono. E Masada è un po' come potremmo dire il Monte Grappa per la storia di Israele, per la storia moderna di Israele. Pensate che le reclude dell'esercito israeliano, quando fanno la cerimonia del giuramento, vanno a Masada e giurano dicendo «No more, mai più, accadrà quello che è accaduto a Masada». Il massacro di Masada pose fine alle guerre giudaiche, ci furono poi varie insurrezioni, ma insomma tutte rapidamente repressi, i Romani avevano il braccio duro. e Tito decise che Gerusalemme doveva essere estirpata dal suolo come Cartagine. Gerusalemme fu distrutta e gli ebrei ebbero l'imposizione di allontanarsi almeno di 70 km da Gerusalemme. Cioè voi andate dovevi andare, ma qui non ci potete più mettere i piedi. E così fu. E questa è stata la diaspora ebraica, perché gli ebrei poi si sono diffusi in tutto il mondo romano e greco. Andarono in Africa, andarono in Gallia, andarono in Grecia, andarono in Italia, andarono in Siria, in Turchia, nei dintorni di Gerusalemme, a Babilonia, in Persia, nel Regno dei Parti, ma a Gerusalemme non tornarono più. Dopo, come campavano? Dopo si detterono da fare, chi faceva il sarto, chi faceva il pittore, chi faceva il cuogliaio, chi faceva il mercante, chi prestava i soldi. Questo non ci riguarda al momento. Ad un certo momento questo territorio distrutto faceva gola e si è detto che si poteva ricostruire una città, una città romana. E sulle ceneri di Gerusalemme è stata costruita una città romana dedicata, se non ricordo male, a Venere, dal nome Elia Capitolina, dove si celebravano i sacrifici pagani, era abitata da romani, da stranieri, eccetera, non dagli ebrei. Questa è una cosa storicamente interessante, ma non quanto modernamente interessante. vi spiego perché. Quando si sente dire il muro del pianto, le visse sul muro del pianto, fra ebrei e musulmani, la ricostruzione di Gerusalemme, il Tempio, io mi sono sempre chiesto questo. Ma è possibile che a distanza di... ma è una domanda che mi faccio, non ho una risposta. È un dubbio che voglio dare anche a voi. Che a distanza di secoli, diversi secoli, che parliamo del 70 antichristo, insomma, si è stata ricostruita Gerusalemme, la Gerusalemme bizantina, la Gerusalemme araba, la Gerusalemme turca, esattamente sopra la vecchia Gerusalemme distrutta. Proprio esattamente. Per cui le mura del cosiddetto Tempio di oggi sono esattamente sopra i ruderi delle mura del Tempio di allora. Io ho qualche dubbio. Io ho qualche dubbio. Ad esempio, quando si parla dei Templari che si erano riuniti sotto il Tempio di Gerusalemme, io non so quanto sia vero. Era tutto distrutto. Al massimo lì c'era un granaio romano, pare, ma non era il Tempio di Gerusalemme. Comunque mi fermo qui. Vi voglio dare questo dubbio, ma mi fermo qui. Gli ebrei sono usciti quindi dalla Palestina, ma soprattutto da Gerusalemme, si sono sparsi per il mondo. Hanno fatto di tutto con qualche divieto di esercitare dei mestieri. Ad esempio, potevano esercitare i mestieri giudicati infamanti dai cristiani. Un mestiere infamante per un cristiano per cui il figlio di chi lo professava non poteva diventare prete era fare il macellaio. Il figlio del macellaio non poteva fare il prete perché era a contatto con il sangue. Poi c'era il problema dell'usura. Chi prestava danaro, pensate al mace, percepiva degli interessi. La Chiesa diceva no, l'interesse è il prezzo del diavolo, è la farina del diavolo, l'interesse non deve essere prestato. Quindi i cristiani non potevano fare i prestiti o li dovevano fare gratuiti. Già è difficile recuperare un prestito, figuratevi se è gratuito. Gli ebrei invece lo potevano fare. E questo spiega perché poi nel tempo la categoria delle persone che facevano prestiti si è concentrata soprattutto fra gli ebrei, che in questo modo sono diventati maestri, diciamo, nella meccanica finanziaria di allora. E che li portava quindi ovviamente, essendo poi gente serie, gente capace, gente formata, perché tutti studiavano la Bibbia sulla Bibbia, poi si formavano, si discuteva, quindi non erano analfabeti, non erano ruzzi, non erano ignoranti come i contadini medievali. Questa gente quindi si è arricchita, aveva del benessere, con una forte solidarietà tra gli ebrei più ricchi e gli ebrei più poveri, per tenere in piedi questa comunanza di fede che è stato il legante di questo popolo, il legante straordinario di questo popolo. C'è un popolo simile a quello degli ebrei, in vita oggi, moderno, di cui non si sente quasi mai parlare, che ha circa un milione di persone, che è il popolo dei parzi. I parzi, cioè che sono i parzi? I parzi sono a metà tra l'Afghanistan ed il Pakistan, sono i seguaci di Zoroastro, della religione zoroastriana. Zoroastro è stato quello che si è inventato un dio unico, angeli e demoni, che ha inventato il principio del male del bene, questa dicotomia che adesso pervade tutte le regioni monoteistiche. Zoroastro è stato un grande profeta. I zoroastriani, quando furono attaccati da Alessandro Magno, che era arrivato in Afghanistan, fuggirono dinanzi all'invasore macedone e si rifugiarono in India. Barcando il fiume Indo, dove poi si è arrestato Alessandro, si fermarono perché i principotti indiani, i Raja, dissero «Vabbè, ma voi che volete? Ah, ma lì ci sono i Greci e...» Allora, i Raja accolsero i zoroastriani in fuga, ma avevano una condizione, le condizionalità del messo. Si dice, guardate, purché non facciate propaganda religiosa qui da noi. Già qui c'è una grandissima confusione. Voi vi dovete astenere da fare i missionari del vostro credito. I pazzi accettarono questo principio che vale tuttora. Per cui c'è una solidarietà interna dettata da questo legame religioso. Tra l'altro, se un zoroastriano si sposa con una non zoroastriana, resta zoroastriano. Se viceversa è una donna zoroastriana che si sposa con uno straniero, perde la sua qualità di zoroastriano. Poi hanno i preti, hanno il battesimo, hanno le comunioni, hanno... come in tutte le religioni. Questo legame così... e tra l'altro sono ricchi in genere perché anche loro sono stati discriminati professionalmente e quindi si sono dedicati a quelle che noi oggi chiamiamo le attività terziarie, al commercio e alla intermediazione finanziaria. Come il mondo ebraico, la differenza è che il mondo ebraico è piuttosto consistente, il mondo dei pazzi è un piccolo mondo, oggi diviso fra il Pakistan, l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Il fatto che gli ebrei diventassero ricchi era una cosa non che dava fastidio, ma che attirava l'attenzione. Poi gli ebrei erano modesti nel loro modo di vestire e di espursi, anche perché erano sempre stranieri a casa altrui, non volevano farsi notare. Però si sentiva che erano ricchi. E quindi erano occasione di furto, occasione di massacri, occasione di aggressioni indebite, diremmo noi. Perché gli ebrei da quando sono usciti dalla dominazione araba, dove non erano vessati, e sono entrati nel mondo cristiano e in particolare nel mondo cristiano ortodosso, sono sempre stati oggetto di vessazione. I marrami in Spagna, al certo punto il re di Spagna, cacciati gli arabi, decise di appropriarsi le ricchezze degli ebrei e disse che poi gli ebrei avevano ucciso Cristo e non potevano stare in Spagna. E quindi erano espulsi dalla Spagna. Gli ebrei furono depredati da Filippo il Bello, che aveva sempre bisogno di quattrini, depredò anche i templari. Gli ebrei finirono in gran parte nella Repubblica di Venezia, che era piuttosto tollerante, ma che non volendo vederli in giro non sapeva dove metterli e li mandò in un luogo, diciamo in una zona industriale di allora, dove si facevano i fuochi per fondare il vetro. Sapete, l'industria del vetro è nata a Venezia, no? I veneziani chiamavano questi fuochi, queste fornaci, gett, i getti, da cui è venuto il nome Ghetto. Il Ghetto di Venezia è il luogo dove era concentrata la maggior parte degli ebrei che arrivavano in Italia, che venivano accolti dalla Serenissima. Poi, dicevo, i cristiani ortodossi si scatenarono più volte contro gli ebrei, soprattutto in Russia, in Polonia e in Galizia. Con i famosi pogrom. I pogrom erano proprio delle pulizie etniche. Un prete o un esaltato diceva oggi bisogna pulire la città dagli infedeli e allora la gente si precipitava, scassava le vetrine dei negozi, svuotava quello che c'era, menava, uccideva i proprietari, stuprava le donne, si impadroniva dei beni della casa e così via. Gli ebrei sono stati perseguitati dovunque. Quando nel 1869, quindi facciamo un salto di parecchi secoli, fu aperto il canale di Suez, perché prima Suez era chiuso, si è aperto una via commerciale con l'Africa orientale e con l'India. Sapete, l'India era la gemma dell'impero britannico, le merci dall'India devono fare tutto il peripro dell'Africa per arrivare a Londra ed essere poi distribuiti in Europa. L'apertura del canale di Suez favorì enormemente i traffici, dando un'importanza eccezionale al Mediterraneo e all'Egitto che era proprietario del canale di Suez, perché la penisola del Sinai era nelle mani degli egiziani. Dal 1492, anno della scoperta dell'America, al 1882, il Mediterraneo non aveva fatto altro che declinare, perché una volta scoperta l'America, i traffici si svolgevano attraverso l'Atlantico e il Mediterraneo era diventato un mare secondario. Con l'apertura del canale di Suez, ritorna in auge il Mediterraneo e l'Egitto ha una posizione dominante, perché è il padrone del Sinai. Ovviamente, essendo il padrone del Sinai, l'Inghilterra occupa militarmente l'Egitto, se ne impadronisce e gestisce le rimesse delle navi che passano attraverso il canale. L'Inghilterra in questo modo assicurava una via di comunicazione molto breve con le sue colonie africane, che vedi caso erano tutte sulla parte orientale dell'Africa e con l'India stessa. Però non bastavano soltanto gli inglesi. Gli ebrei in fondo sono europei, hanno la faccia degli europei, motivo per cui la costituzione di una colonia ebraica in Palestina, diciamo a due passi dal canale di Suez, perché la Palestina comprende anche la penisola del Sinai, sembrò una buona idea all'Inghilterra. In questo modo l'Inghilterra si creava una specie di entità cuscinetto rispetto al mondo arabo-turco per proteggere i suoi interessi sul canale di Suez. Questo avvenne nel 1869 e ci fu quindi una piccola emigrazione ebraica in Palestina, senza disturbare nessuno, ma sempre a secondo gli interessi britannici. Nel 1897, quindi siamo grossomodo 30 anni dopo, un intellettuale ungherese, Teodoro Herzl, che era ebreo, fondò un movimento che da allora dette luogo al sionismo. Fondò un movimento sionista che aveva come obiettivo la rionificazione delle genti ebraiche dopo la diaspora e la formazione di un loro Stato. Teodoro Herzl era un uomo molto ricco e non gli importava molto dove questo Stato di ebrei si fosse potuto costituire. si parlò di Uganda, di Argentina, si ebbe contatti con la Germania, con l'Austria, addirittura con l'Italia, pensate. Alla fine gli dette retta soprattutto l'Inghilterra. L'Inghilterra e Francia, come al solito. L'idea di fondo, l'idea proprio grande, era quella della grande Palestina, cioè uno spazio compreso fra il Nilo e l'Eufrate, cioè fra l'Egitto, diciamo il Cairo e Bagdad, Alessandria e Bagdad. Questi erano sogni. Però questa idea ovviamente piacque al mondo ebraico. E un barone ebreo francese, il nome vi dirà l'importanza, che si chiamava Edmund de Rothschild, i Rothschild, Rothschild vuol dire scudo rosso, fondò, sulla base di questa premessa sionista, un'associazione per la colonizzazione ebraica della Palestina. raccolse dei fondi e cominciò ad acquistare delle terre in Palestina che gli arabi del luogo vendevano volentieri perché questi territori erano secchi, erano deserti, erano senz'acqua. Quindi non pareva loro vero che ci fosse un pazzo che andava a pagare per acquistare dei terreni che non erano abitati neanche dalle capre. Cominciarono allora le prime emigrazioni in Palestina e queste emigrazioni furono molto sfruttate dagli arabi, che ci si arricchirono perché gli ebrei che arrivavano erano quattro gatti. Agli inizi del XX secolo si calcola che non vi fossero più di 24.000 ebrei in Palestina. E gli ebrei trovavano conveniente commerciare con gli arabi. Solo che, a differenza degli arabi, gli ebrei cominciarono a darsi da fare per coltivare queste terre, questo deserto. Cominciò allora la famosa invenzione dell'annaffiatura a goccia, una goccia su ogni piantina nel deserto e la piantina cresce e poi fruttifica. Quindi gli arabi erano lo vieti di vendere terre inutili. Quando scopirono che gli ebrei le facevano fruttare, cominciò un'epoca di predoni. Assalivano le fattorie ebraiche. Poi gli ebrei sparavano. Poi si resero conto che forse non era il caso. E gli stessi banditi si presentavano dagli ebrei dicendo «Ma perché non ci assumete come guardie armate del vostro campo, del vostro villaggetto?» E così si è creata un osmosi tra la popolazione palestinese, residente in Palestina, e questi profughi mondiali, questi profughi ebrei. Pensate che nel 1914, quindi siamo andati avanti dall'87 al 14, gli altri vent'anni, gli ebrei rappresentavano appena l'1% degli ebrei in Palestina della popolazione mondiale ebraica. Ed erano l'8% della popolazione palestinese. E questo 8% possedeva solo il 2,5% della terra disponibile. Quindi non era una minaccia per le popolazioni armate, nel modo più assoluto. Poi nel 1914 interviene il primo conflitto mondiale. E fra i paesi belligeranti c'è la Turchia ottomana che si allea con la Germania e l'Austria e che viene sconfitta. e che viene sconfitta, alla fine della guerra ci sarà la dissoluzione dell'impero ottomano. La Turchia ottomana, giuridicamente, era titolare della Palestina, con gli arabi dentro e gli ebrei, che erano immigrati in quella terra. L'atteggiamento del movimento sionista agli inizi fu favorevole alla Germania. D'altronde, Herzl era ungherese, c'era l'Austria-Ungheria. Poi, questo movimento d'opinione, poiché poi gli ebrei avevano un'importanza economica negli Stati Uniti e in Inghilterra molto forte, indusse gli inglesi, diciamo i paesi dell'intesa, ma in pratica l'Inghilterra, a considerare un po' la questione e a porsi il problema. Ma ci conviene o non ci conviene che il sionismo sia contro di noi? Viste anche le risorse finanziarie del mondo sionista, si decise che conveniva agli inglesi averli alleati. e si arrivò così nel 1917, cioè in piena Prima Guerra Mondiale, ad una famosa dichiarazione di Belfur. Questo se lo ricordano gli ebrei come la carta costituzionale. Il 2 novembre del 1917, i paesi dell'intesa, che combatteva contro Francia, contro la Germania, l'Austria e la Turchia, con questa dichiarazione promisero al movimento sionista di favorire la costituzione di un focolare ebraico in Palestina. non dissero uno stato ebraico, dissero un focolare ebraico, ma bastò questa promessa per avere l'appoggio del sionismo internazionale e gli ebrei cominciarono a veder concretizzato il loro desiderio di riunirsi in terra di Israele. Questa cosa fu decisa per avere il sionismo alleato e quindi le sue risorse finanziarie. Ovviamente, dico ovviamente, non si disse nulla né ai turchi, che erano i padroni delle ferriere, né agli arabi, che vivevano in Palestina. Era una cosa a quattro occhi, a umma umma, però la cosa scoppiò quando, dopo la rivoluzione di ottobre, in Russia, Lenin, che era un po' come i 5 Stelle di oggi, voleva la trasparenza, pubblicò i documenti segreti del Ministero degli Esteri zarista. E fra questi documenti segreti c'era la dichiarazione di Balfour. E successe l'inferno. Perché i turchi si sentirono offesi, gli arabi si sentirono offesi, e cominciarono a vedere di malocchio gli inglesi, e si sentirono, soprattutto gli arabi, ingannati, perché non erano stati neppure consultati. Si va come terra nostra, e voi l'avete allonato. Nel frattempo continuava la guerra. La Turchia era un osso duro, e Churchill, che allora era Ministro della Marina, Lord dell'Ammiragliato, concepì una manovra girante contro i turchi. Concepì il famoso sbarco di Gallipoli, nel Mediterraneo. Questo sbarco, avrete visto qualche film, forse in materia, un'operazione disastrosa che causò la morte di migliaia di neozelandesi e di australiani. Perché i turchi, che si pensava fossero un esercito da quattro soldi, resistettero, gli alleati sbarcarono sulla costa, l'intento era quello di occupare gli stretti, i turchi stavano sulle colline con le mitragliatrici e ne fecero un massacro. erano guidati da un giovane ufficialetto turco che si chiamava Kemal Atatürk, che poi ebbe una parte importante nella storia della Turchia. Gli alleati furono costretti a ritirarsi, la Turchia vinse questo scontro, però bisognava abbattere la Turchia. Allora, gli inglesi concepirono un doppio piano aggirante, uno con uno sbarco dall'India a Bassora, in Iraq, per conquistare Baghdad, ed un altro in Arabia. Nel mondo arabo c'erano una serie di tribù guidate da vari emiri, vari sceicchi, perennemente in guerra fra loro, formalmente sottoposti all'autorità del sultano che stava ad Istanbul, la vecchia Costantinopoli, e una piccola delegazione franco-inglese prese contatti con uno sceicco, lo sceicco Feisal, proponendogli di insorgere contro gli ottomani. Loro l'avrebbero aiutato. Feisal menò un po' il camperlaia, non sapeva bene che pesci prendere, se aderire alla causa dei Turchi o aderire alla causa britannica. Gli inglesi gli fecero balenare l'idea che a fine guerra si potevano riunire tutte le popolazioni della penisola arabica e fare un regno arabo di colui sarebbe stato il primo re, salvando quindi le sorti della dinastia, e alla fine Feisal a Bocco. Arrivarono soldi, arrivarono armi, e arrivò un giovane maggiore, intraprendente, molto intraprendente, inglese, che fino a quel momento era stato confinato nell'ufficio cartografico dello Stato Maggiore del Cairo, che era Lawrence, quello che poi diventerà Lawrence d'Arabia. Perché fu mandato lì? Perché era uno dei pochissimi che conosceva non solo l'arabo, ma anche alcuni dialetti arabi, e quindi era l'unico che poteva parlare come se fosse stata la sua lingua amata. Lawrence riuscì a fondere le tribù arabe, almeno una buona parte, e cominciò, con il supporto inglese e in parte anche francese, ad attaccare soprattutto le linee di comunicazione turche che da Istanbul attraversavano tutta la penisola anatolica, entravano in Siria, dalla Siria in Palestina, dalla Palestina, via via, arrivavano fino in fondo alla penisola arabica. La faccio breve. L'opera di Lawrence fu particolarmente decisiva ed importante. Galvanizzati dai primi successi, gli arabi in misura crescente si unirono a Lawrence e mentre gli inglesi attaccavano dal Sinai per entrare in Palestina, le basi inglesi erano in Egitto perché l'Egitto era occupato dagli inglesi, vi ho già detto, Lawrence dal sud, dalla penisola arabica, risaliva la penisola cercando di entrare in Giordania e di arrivare a Damasco e prendere la Siria. Gli inglesi non vedevano di buon occhio l'attivismo di Lawrence, però non potevano non aiutarlo. Lawrence entrò a Damasco mentre il generale Allenby, inglese, entrava a Gerusalemme. Le masse arabe esplosero nell'entusiasmo e si era le soglie di un regno arabo. Naturalmente qui non si parla di ebrei, non si parla... Si parla di la costituzione di un regno arabo nei territori arabi del Medio Oriente. Per tutti i territori arabi la Turchia dovette crollare. Il sultano fu destituito, si formò una repubblica turca guidata da quel ragazzotto che aveva combattuto a Gallipoli, Kemal Ataturk. La repubblica diventò una repubblica kainemanista, una repubblica laica che impose alla gente, alle donne di togliere il velo, agli uomini di togliere il fez, che scrisse il turco in caratteri latini segnando uno stacco decisivo fra il mondo turco ottomano e la nuova Turchia. Fece una guerriciola con i greci che volevano impadronirsi dell'Anatolia, perseguitò un po' di armeni, tanto per continuare in una tradizione ancestrale turca, e ristabilì la sovranità sulla penisola turca, dove oggi era Turchia. Il resto lo lasciò alle potenze vincitrici. E qui le potenze vincitrici erano due, anzi erano tre, perché c'erano gli Stati Uniti, c'era anche l'Italia, se per questo l'Italia aveva avuto la suggestione di avere un pezzo di Anatolia, ma ci rinunciammo subito perché era troppo scomplice. Ci riconobbero la sovranità sul dodecannesso. Gli Stati Uniti dissero ah, io non mi voglio impicciare del Medio Oriente, è troppo lontano da me, non me ne importa nulla. Quindi rimasero Francia e Inghilterra, poveretti, che si spartirono il Medio Oriente di comune accordo. Questo va detto, perché è importante. Va detto. Io adesso vorrei farvi vedere per un attimo, provo a fare la... la comunicazione di questa cartina. Questa cartina, la vedete la cartina qui davanti a voi? O no? Facciamo anche il microfono spinto. Sì, la vediamo, la vediamo. La vediamo. Bene, grazie. Questa cartina vi dimostra come si sono spartiti a tavolino i territori arabi. La zona sotto della penisola arabica, questa bianca, rimase a Faisal. Tanto lì non ci cresceva erba. Poi c'era una zona britannica, poi c'era una zona rossa a destra, quella di Bassola, dove erano i campi petroliferi. sotto l'influenza inglese. Poi una zona, diciamo, grigetta o violetta di occupazione francese. E poi ancora, questa sarebbe l'equivalente della Siria e del Libano, e poi una penetrazione francese dentro la penisola anatolica. come vedete, la spartizione era evidente. L'interesse delle popolazioni non era influente. E questo è tanto più importante perché il loro, diciamo, il loro connubio con gli Stati Uniti vedeva alla presidenza degli Stati Uniti Wilson che con i 14 punti in base al principio delle nazionalità aveva imposto una spartizione degli imperi russo, tedesco ed austro-ungarico in base al principio che lui aveva proposto. Ma nel Medio Oriente questo principio non è stato neanche citato lontanamente. Se ne sono fregati tutti. Gli Stati Uniti perché hanno detto non mi voglio immischiare nelle questioni Medio Orientali. Francia e Inghilterra zitti e chiotti si sono spartiti questo territorio. Vediamo chi furono gli autori della spartizione. Beh, gli autori della spartizione furono fu la famosa commissione armistiziale Sykes-Picot. era un funzionario francese, Sykes era un generale britannico che dal nulla crearono gli stati arabi. Guardate, è incredibile questa storia. È incredibile. Cioè crearono l'Iraq, la Transjordania e l'Arabia Saudita e ne fecero tre monarchie sotto l'influenza britannica. più una serie di importanti territori petroliferi che oggi sono il Kuwait, il Bahrain, gli Emirati Arabi, il sultanato di Oman e lo Yemen, sempre sotto l'influenza britannica. Il Libano e la Siria furono attribuiti alla Francia. L'unico criterio seguito è stato quello dell'equilibrio degli interessi fra le due potenze. ovviamente gli Arabi non sono stati neanche sentiti chiaro, né ebbero voce in capitolo gli ebrei. Una cosa curiosa che è stata ricordata qualche tempo fa sul Corriere della Sera dall'ex ambasciatore romano è come si è arrivati a tracciare i confini dell'Iraq. noi abbiamo un'idea dei confini quasi sacrale. Questi confini furono disegnati su incarico britannico da una donna, un'archeologa dilettante inglese che si chiamava Gertrude Bell che aveva trafficato con il servizio segreto inglese e con Lorenz d'Arabia. In quel momento Churchill che era ministro della Marina aveva deciso il passaggio della flotta britannica dal carbono alla nafta per cui il possesso dei pozzi petroliferi era indispensabile per la Marina Britannica e quindi aveva messo gli occhi sui giacimenti tra Mosul, Bassor e Baghdad. Quindi la Mesopotamia divenne l'Iraq e fu attribuita al figlio dello sceriffo della Mecca. Questa archeologa che detestava gli sciiti guardate che in Iraq la maggioranza è sciita e la popolazione minoritaria è sunnita come dire non c'entra niente ma tanto per spiegare maggioranza protestante minoranza cristiana. Lei detestava la maggioranza gli sciiti e quindi spostò le linee di confine in modo da attribuire la nazionalità dei giacimenti petroliferi alla parte sunnita. In più poiché si teneva era stata promessa anche a loro ma non fu rispettata questa promessa che i kurdi volessero fare uno stato per conto loro si creò uno stato sunnita unitario violando le speranze dei kurdi. In sostanza la Palestina a questo punto è un po' la Palestina che rimase fu la... adesso vi faccio vedere vorrei farvi vedere un'altra cartina è rimasta quella che noi oggi conosciamo come configurazione. Come vedete tranne qualche pezzetto questa zona gialla è più o meno la Palestina di oggi quelle macchie rosse sono gli insediamenti ebraici nella Palestina di allora poi sotto c'è l'Egitto occupazione britannica a destra c'è la Transgiordania il confine è rappresentato dal fiume Giordano vedete che separa la Palestina dalla Transgiordania non a caso si chiama Transgiordania e questo era un nuovo regno creato dagli inglesi poi sopra c'era la Siria mandato francese e ancora più sopra il Libano tutte facce conosciute diciamo francese anche lui questo fu il nuovo assetto del paese ora il movimento sionista subito dopo la guerra sulla base della dichiarazione di Balfour il fogolare ebraico naturalmente si presentò all'incasso allora tocca a noi adesso andare in Palestina la Palestina essendo diventata un possedimento britannico l'entità con la quale ragionare era l'amministrazione britannica la Transgiordania che oggi non esiste più perché è diventata Giordania era guidata dagli inglesi al punto che l'esercito giordano la legione araba era guidata da un colonnello inglese le guardie di frontiera giordane erano guidate da un maggiore britannico quindi la speranza di avere uno stato arabo unico fu frustrata dagli inglesi e dai francesi che erano interessati soltanto all'acquisizione delle risorse petroliche spezzettando la penisola arabica in tanti potentati facilmente controllabili ottennero questo scopo e Feisal lo sceicco che doveva diventare re di tutta l'Arabia e che si era anche impegnato con gli ebrei ad una convivenza pacifica pur di fare un unico stato in un nuovo assetto medio orientale diciamo che ci rimase un po' male ci furono molti molti contrasti comunque questo assetto bene o male andò avanti per vent'anni fino a quando non scoppiò la seconda guerra mondiale in Egitto si era formata un movimento di resistenza anti inglese il movimento dei fratelli musulmani il razzismo di Hitler con le progressive vessazioni nei confronti degli ebrei tedeschi e le dichiarazioni razziste del Mein Kampf spingevano gli ebrei ad andarsene dalla Germania dove potevano andare solo in Palestina in Palestina gli inglesi non li volevano perché sapevano che aumentando la quota di immigrati ebrei ci sarebbe stata una reazione araba e perché gli inglesi dovevano assicurare l'ordine pubblico in Palestina non volevano uno sviluppo eccessivo dell'immigrazione ebrea poi scoppiò la guerra e qui accadde una cosa curiosa gli ebrei si erano organizzati con alcune bande armate sia per difendersi dalle bande armate arabe sia per contrastare i reparti britannici e difendere le loro fattorie i loro kibbutz si chiamavano kibbutz la scoppio della guerra significava che bisognava stare da una parte o dall'altra all'inizio poiché il problema per gli ebrei era l'ostilità inglese all'immigrazione ci furono molti che dissero è il colmo noi dobbiamo schierarci con la Germania perché il nostro nemico è l'Inghilterra la Germania combatte l'Inghilterra e noi siamo alleati dei tedeschi c'era un'altra parte invece che si faceva forte delle persecuzioni naziste nei confronti degli ebrei e diceva ma come possiamo essere alleati dei tedeschi che massacrano i nostri confraterni e che combattono contro l'Inghilterra che non ha mai ammazzato un ebreo dopo lunghe discussioni che furono anche molto vivaci gli ebrei di Palestina decisero di stare dalla parte degli inglesi e addirittura fu costituita una brigata combattente la brigata ebraica che combatte in Siria per riconquistare la Siria che era sotto il dominio francese ma francese collaborazionista con i tedeschi poi ha combattuto in Italia e soprattutto in Austria poi ve ne parlerò un momento magari naturalmente questa situazione produsse poi una serie di scontri perché dal momento in cui gli ebrei si allearono con gli inglesi contro i tedeschi gli arabi automaticamente quasi si schierarono dalla parte tedesca il mufti di Gerusalemme era un amico personale di Himmler e addirittura una legione delle SS fu fatta da volontari arabi quando finì la seconda guerra mondiale con tutto quello che si era scoperto sui lager sui campi di annientamento sulle sofferenze del popolo ebraico non soltanto in Europa e quando si scoprì anche diciamolo pure la vigliaccheria dei paesi alleati che non avevano buttato una bomba su un campo di concentramento non avevano mai interrotto con i loro bombardamenti quotidiani massicci una linea ferroviaria che trasportava i carri dei prigionieri ebrei che andavano a Mauthausen ad Auschwitz perché c'è una colpa degli alleati che non hanno mosso un dito per fermare i crimini nazisti gli ebrei non potevano che presentare una cambiale e dire non avete fatto nulla ci hanno massacrato siamo un popolo senza terra noi vogliamo andare in Palestina e milioni di profughi aiutati da un'agenzia ebraica difesi dalla brigata ebraica portavano la divisa inglese ma la stella di Davide si imbarcarono e in tutti i modi cercarono di raggiungere Israele la terra promessa mai più promessa di quello che poteva essere in quel momento ricorderete un film Exodus la nave Esodo carica di profughi ebrei che fu fermata davanti al porto di Tel Aviv e la fecero tornare indietro gente disperata che era uscita dai campi gli inglesi ovviamente diventarono il nemico primo uno numero uno degli israeliani milioni di profughi che non potevano andare altro che in Palestina perché in Germania non se ne parlava proprio in Polonia non ne parliamo la Francia era distrutta l'Italia soprattutto nel nord aveva seguito l'esperienza tedesca quindi dove potevano andare i più ricchi potevano andare in America in Russia non era proprio il caso d'andare anche la Russia era distrutta e per altri vezzi la Russia aveva fatto dei massacri con i pogrom di migliaia di ebrei quindi la Palestina era l'unico luogo dove potevano andare gli ebrei di tutto il mondo si finanziarono per aiutare questi disgraziati a tornare in Israele l'agenzia ebraica e i grandi finanzieri internazionali ebrei fecero massa e quindi ci fu un flusso di centinaia di migliaia di persone e questo preoccupò grandemente l'amministrazione britannica che giustamente vedeva in questa invasione ebraica non il focolare ebraico ma un focolaio di contrasti con i residenti europei gli arabi all'inizio quando videro con tutta questa gente che tra l'altro disponeva di soldi per comprare sempre le solite terre desertiche furono abbastanza contenti non gliene fregava molto non c'era uno spirito nazionale in palestina per cui il palestinese diceva no questa è la mia patria la mia terra i miei confini no a parte il fatto che per secoli decine quasi sette secoli la palestina era stata un dominio ottomano mescolato con la siria e lì quelli che oggi noi chiamiamo siria liban irac e giordania ecc non aveva uno sentimento nazionale sfruttarono la situazione molti si arricchirono vendendo i loro territori privi di tutto agli israeliani agli ebrei ma gli ebrei riuscirono a farli produrre però gli inglesi fecero di tutto per porre fine a questa immigrazione tra l'altro molti di questi immigrati venivano dall'unione sovietica e in quel momento cominciava la guerra fredda e quindi si vedeva con molto fastidio un inserimento di comunisti ebrei in palestina la longa manus della russia sovietica nel medio ma che scherziamo questo è il terreno nostro i britannici e i francesi ed infatti l'unione sovietica vedeva con favore l'ipotesi di una costituzione di uno stato socialista non necessariamente sovietico animato dai suoi profughi ebrei poi le cose non andarono così perché la russia stava in un mare di guai dal punto di vista economico non poteva aiutare gli immigrati ebrei però cominciarono i contrasti con gli arabi e cominciò il terrorismo il terrorismo degli arabi che tagliavano le piante coltivate dagli ebrei con tanta fatica il terrorismo degli ebrei che sparavano sulle masse quando protestavano che erano masse arabe e cominciò una divisione crescente fra questi due popoli ambedue poi uniti dall'odio verso gli inglesi che li avevano messi in questa condizione si formarono dei famosi gruppi terroristici ebraici la Hanna l'Irgun Zwaileumi il gruppo Stern non so se ricordate ci fu un attentato all'hotel King David di Gerusalemme che era dove confluivano tutti gli ufficiali britannici che fece decine di morti ci fu un attentato a Roma a via 20 settembre dove era l'ambasciata britannica che oggi è stata ricostruita in quel mostrum moderno che all'inizio di via 20 settembre superato il monumento ai bersaglieri e tra l'invia 20 settembre sulla sinistra c'è una cosa di cemento che la nuova ambasciata britannica la fecero saltare i nari alla fine gli inglesi con il solito assoluto menefreghismo dissero sapete che c'è noi ce ne andiamo sbrogliati dalla per conto vostro quindi nel 1947 due anni dopo la fine della guerra mondiale della seconda guerra mondiale la situazione in Palestina era diventata intollerante gli inglesi avevano un mandato internazionale per gestire la Palestina presero il mandato lo portarono alle Nazioni Unite e dissero questo è il mandato fatene quello che volete non ne vogliamo sapere dopo 30 anni gli inglesi se ne andarono insalutati ospiti ma nel frattempo in quei 30 anni quella popolazione ebraica che agli inizi del secolo aveva solo 24.000 abitanti era diventato ormai un terzo dei cittadini della Palestina pur possedendo solo il 7% del territorio palestinese quindi ormai era diventato un problema demografico con gli arabi fuori dalla grazia di Dio e gli ebrei che cercavano di allargarsi il più possibile acquistando o comprando o depredando terreni arabi le Nazioni Unite con la solita velocità con le quali opera le Nazioni Unite e d'altronde inevitabile riunirono una commissione permanente uno speciale comitato per la Palestina e si cercò di trovare una soluzione per questa situazione che tra l'altro produceva un sacco di morte gli inglesi se ne erano lavati le mani si arrivò ad una conclusione si voleva cioè fare o due stati uno stato arabo e uno stato israeliano con una Gerusalemme sotto le Nazioni Unite soluzione del tutto impraticabile oppure fare uno stato federale fra diciamo una provincia ebraica e una provincia araba solo che gli ebrei erano dispersi nel territorio palestinese non erano raggrumati tutti attorno a Tel Aviv quindi non avevano un territorio definito quindi bisognava in un qualche modo trovare una soluzione alla fine sempre nel 47 si decise la spartizione fra il territorio diciamo prevalentemente ma erano sempre minoritari abitato dagli ebrei e il territorio abitato dagli adem e la decisione fu una decisione paradossale e ve la spiego adesso facendovi vedere questa cartina poi ho finito per questa volta allora guardiamo questa cartina Israele è sempre la stessa le zone rosse sono le zone ebraiche che le Nazioni Unite assegnavano teoricamente agli ebrei le zone gialle sono le zone assegnate agli arabi però c'erano dei problemi le zone arabe non erano contigue come le zone ebree quindi non c'era perché vedete nel nord c'era un corridoio arabo nel sud c'era un corridoio ebraico ma non c'era una contiguità territoriale tra il territorio arabo e il territorio ebraico poi ancora la maggior parte delle terre assegnate agli arabi era senza acqua l'acqua in Palestina è una cosa vitale a questo punto la decisione delle Nazioni Unite fece scoppiare il calderone un'ondata di violenza senza precedenti nella Palestina del 48 e praticamente questa violenza fu determinata diciamolo pure dagli ebrei perché gli ebrei approfittarono della incapacità organizzativa degli arabi per occupare più territori possibili cominciarono a bombardare i villaggi isolati arabi facendo fuggire la popolazione ed impadronendosi estendendo rapidamente i luoghi di occupazione in modo da acquisire la contiguità e i territori più fettili gli arabi cominciarono ad essere profughi non sapevano dove fuggire dalla Giordania li cacciavano in Siria gli speravano i francesi scendevano verso l'Egitto e c'erano problemi con gli inglesi in sostanza è cominciato da quel momento il problema palestinese la prima guerra che poi vedremo la prossima volta fu proprio scatenata dai paesi arabi e dai palestinesi che cerchiavano di conquistare la totalità del territorio assegnato all'etnia ebraica in modo da cacciarli definitivamente fuori dall'uomo gli ebrei ovviamente volevano fare esattamente il contrario ed espellere gli arabi dalla Palestina in sostanza mentre c'era questo gigantesco casino in Palestina il 16 maggio 1948 al museo di Tel Aviv città interamente ebraica da parecchi anni sotto a un ritratto di Teodoro Herzl il fondatore del sionismo Davide Ben Gurion annunciò al mondo la costituzione dello Stato di Israele da quel momento da questo momento non parleremo più di ebrei parleremo solo di israeliani ma parleremo delle guerre arabo-israeliane grazie io ho finito per oggi spero di avervi interessato grazie a tutti